movimento di gambe e movimento di troppo quello è peso, lui può cercare di fare la bagarre mentre il negro dovrebbe essere più agile va cercando la rissa l'Ucraino e troverebbe poi anche la botta per mettere l'Ucraino la botta precisa, veloce e precisa andrebbe avanti incontro da solo la grande esperienza di Sandro Pazzighi ci dà l'opportunità di capire molto chiaramente quelle che sono le caratteristiche dei due pugili quella che dovrebbe essere la tecnica da seguire da parte di Ali per poter venire a capo di questo difficilissimo match Ali riparte subito con un gembe sinistro e va a segno certo se si muovesse di più con il tronco dà se meno l'opportunità del bersaglio fisso perlomeno di schivare qualche colpo e schivare dei colpi e poi rimette e va a rientrare subito rimessa immediata allora diciamo di rimessa gioco di rimessa vale a dire mandare a vuoto l'Ucraino e rientrare immediatamente il gioco di rimessa è il miglior gioco che possa fare un fuggile dal punto di vista tecnico perché imbriglia anche le qualità essenziali dell'avversario le neutralizza e poi evidentemente viene a capo del match ma lì è entrato con un gembe destro preciso ancora un colpo, un gancio destro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti